Benvenuti e benvenuti al mio canale, io sono Magrus, oggi siamo qui su FIFA 21, carriera di natura Newport County Allora, abbiamo una buona formazione, soltanto il tempo ce lo potrà dire, perché lo sapete benissimo spesso e volentieri ci sono alti e bassi, speriamo quest'anno che ci siano più alti che bassi visto che è capitato spesso che siamo primi, ma tre partite abbiamo fatto, quindi non ci gasiamo però siamo a metà agosto, allora il budget più o meno è abbastanza buono secondo me però vi ricordo una cosa fondamentale, che dobbiamo rinnovare un po' alcuni contratti lo faremo appena superiamo diciamo agosto, così mi rendo conto bene di che budget abbiamo e abbiamo bisogno di un portiere, me ne sono segnato uno in particolare, uno di cui mi ha detto che è molto forte vediamo di andare avanti, ok, proveremo a cercare di acquistarlo verso la fine più che altro voglio capire se riusciamo a vendere qualcuno, perché ancora non siamo riusciti naturalmente a venderli e magari mandare qualcuno in prestito, comunque facciamo dei cambi, Abram se lo vedo abbastanza riposato Picco mi è già salito di uno, eh, Dordevic lo voglio mettere a porzo di Nozzura perché sta giocando bene Bordel per forza giocare a lui, Cereghetti, fatti sta partita, se no mi cali un po' troppo Altamarino, io, non lo so, Altamarino, dico la verità, mi stai un po' nel torino allora, chi mi ispira veramente tantissimo è questo Lorenz io devo farlo diventare assolutamente un Cicci, perché secondo me può essere abbastanza forte non so perché mi ispira, o magari mi sbaglio infatti lo facciamo giocare al posto di Shane quando diventerà Cicci saremo tutti quanti contenti Torres ancora no, Gittins pure non è male mi voglio portare, va, al posto di Ains, vai giochiamo così che ce ne frega il tuo spettacolo, dove stiamo? vabbè, ma sembra si è cresciuto, no? guardalo Casumo ma non è fa, lo tava per cortesia, inizia oh, hai visto? vai ma avete visto quanto si è infilato? porca paletta avete notato una cosa? che quando acquistiamo qualcuno la prima partita fa schifo, gioca male poi dopo si scatira, mamma mia ma, allora, quello che mi ha colpito cioè, dovete guardare, destra per curiosità il pallonetto di Abrams mamma mia, guardate il pallonetto di Abrams è qualcosa di la pietra, però ma che pallonetto fa? c'è manco scadina la pietra, c'è a Edwards aspettami e raga bello grande Abrams guarda, questo è offensivo nei confronti di Boyd che è un ragazzino non capisco perché esce, esce no bravissimo allora ragazzi, vedi che c'è Edwards vai Edwards non so chi darla che bastardo non gli riuscirà mai ha fatto un tiro esagerato forse poco angolato perché il portiere sta facendo tutte queste parate? chi è questo? non lo compriamo che ci fai là? oh ad Edwards ah ma porca paletta che sta avendo un mazzo tremendo non mi piace sta storia perché quando incominciamo a avere quando incominciano ad essere fortunati poi dopo ok ok questo sta facendo 50 parate non riesco a bloccare anche uno ah così vi voglio vai no vai sotto vai cioè è incredibile qui si stanno ancora a cercare non si è riuscito a far cambio appunto attenzione 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 è incredibile no 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 ma che no dai allora c'è stato un qualcosa è successo qualcosa su quella face no madonna cioè io non lo so guarda è una cosa che a me mi fa incazzare in una maniera esagerata cioè che è successo lì ha finalizzato la perfezione un grande contropiede attaccante che ha fatto quello guarda non ce la fa peccato proprio peccato questi poi si sono chiusi questo è un pareggio proprio by fifa praticamente cioè trucchiata tremendamente cioè gli abbiamo regalato un pareggio non c'è niente da fare cioè secondo me ad un certo punto conviene fa di segnale se no si perde troppo tempo cioè praticamente dal sessantesimo all'ottantesimo non ci sono neanche un fallo natale e niente Ace che vuole ragazzi credo di andare a giocare un pezzo mi farà bene siamo d'accordo dunque bravo Ace peccato perché secondo me sprechiamo delle occasioni offerta per il trasferimento discorso ah vedi bene te lo potremo praticamente anche dare c'ha 32 anni questo non migliora praticamente più andiamo a trattare 2,70 a me non valgono niente questi giocatori porca miseria ma noi attuali a 2,75 dove ci offrono ma riusciamo ad arrivare pure a un 300 un 340 2,70 cioè non ti smuovi proprio mamma mia rilegozia dai arriva per la prima 2,90 dai niente proprio 0 vabbè che palle dai di 80 beh cioè sei pure cazzata ma c'ha ragione vabbè ma scusate la voglio rendere però mamma mia cioè al vostro decidi il prezzo non aumenti niente te ne vai ma l'educazione è al massimo vabbè chi abbiamo undersurf momento però voglio un attimo vedere un attimo a brosa se avevo cambiato una cosa ma questi qua è un prestito abbiamo mandato non ci abbiamo non posso mandare se no poi non c'ho portiere di riservo eventualmente chi era che volevamo fare ah era lo sta c'è quello là che volevo far migliorare cioè che doveva diventare un cc Lawrence centrocampista centrale sì quanto tempo ci vuole ancora 111 settimane porca miseria c'è un sacco di tempo ci vuole vabbè fa niente dai allora vediamo un pochettino se posso cambiare devo cambiare un po' di qualche difensore qua metto di Matthew Collins lo facevo giocare Boyd lo faccio un po' riposare e ci mettiamo tu sta Clayson Clayson dai ok beh gioca tu vai al posto di Abrams vediamo se riesci a darmi soddisfazione Abrams lo facciamo riposare Altamarino ti faccio giocare al posto di eh che assumo dai e guarda se mi stai un po' deludendo ultimamente voglio far giocare col Torres giochiamo così dai speriamo vai va è buona è buona è buona vai ehi mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma Clayson anello debole anello debole Clayson vabbè meno male che è recuperato almeno no e l'ho presa ormai vabbè ok vai Edwards dai vai 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 ok orca paletta non corsa subito qui si vada prenderlo orca miseria non devi segnare però eh che palle continuo a segnare England 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 come si chiama vabbè comunque sono contento saranno le sorelle tutte e due bionde tutte e due con la stessa maglietta gemelle vabbè bravo Indulano dai picco vai vai che c'è Altamario dai picco vai guardalo 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 vai Indulano vai niente vabbè dai fai niente sta portando praticamente a spas e vai no 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 allora qualcuno che dai 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 a King ma io lo so ce la stanno mettendo tutta per non farci segnare tutto tutto ce la stanno mettendo tutta per non farci segnare incredibile avanti e ti sei fermato ma che intensissimo pico è un'ottima rete di passaggio e fallo arbitro vai doppietta no è è Gakuto Gakuto bravo Gakuto vedi Gakuto entra e segna entra e segna non fa queste cose che poi ti spezzi il giro che poi ti spezza il collo King non esagerare King meno male bella prestazione di Altamarino Altamarino io l'abbiamo preso così per schiambio ma secondo me abbiamo fatto un grande acquisto comunque continuiamo sempre a mantenere una strescia positiva e sinceramente che vuoi Abrams allora la fascia di Kaviano mi ha sorpreso volevo solo esprimere la mia opinione in maniera schietta per aiutare lei e tutta la squadra che invece di ringraziare mi ha punito non me lo metto ma che vuoi non saltare le conclusioni affrettate mamma mia volevo dire che sono proprio qua per le voci oh mamma mi stiamo vincendo ragazzi ci darò la possibilità o qui si vinciamo mezza partita non giocano e già diventano disperati però sa cosa se vuoi si dovrebbe correggere comunque siamo secondi offerta appertazione di bene 2,70 vediamo se riusciamo a toglierci dalle scatole allora negoziamo offerta cartellino 300 che dici anche ora ma sei parente a quello di 2,70 di prima guarda facciamo così facciamo 2,80 basta ma l'avete rotto accettiamo pigliatelo pigliatelo non lo voglio vedere più a questo ma l'ho rotto le scatole basta basta fa abbiamo un difensore in meno vabbè quindi stipendio lo devono ancora vendere l'offerta metà di no non ve lo posso dare a assolutamente ma poi 4 milioni la miseria più totale non vi flashate proprio troppo poco per almeno un 7 8 10 20 mi sa che ci giochiamo questa partita e poi ci occupiamo della crescita venduto allora giocatori impegnati king parker edwards mamma mia benet venduto offerta per il prestito di udiz aspetta questo glielo mandiamo in prestito si si glielo mandiamo assolutamente quindi andiamo a delegare ok chat giocatore dove ci penserò dove non ti preoccupare allora si facciamoci questa partita con il su 1 6 e poi vediamo a rivedere se riusciamo a becchiare il portiere adams deve giocare e human sta facendo doppiette su doppiette tordevi ci ti faccio giocare devi rifare una bella figura allora facciamo riposare a a collins ma il capitano è lui si vabbè ma gli do la fascia da capiamo se no ci rompe le schiatole facciamo giocare a gettins ok c'era getti giocami tu a posto di voi deve giocare qua essendo pure ma non me lo voglio portare sinceramente mi sta un po' deludendo open lorenz me lo vorrei portare dai ok è buona è buona vai bravo edwards andiamocene subito dai comunque ormai comunque sa che edwards lì ma aspettavo un colpo di testa veramente parca miseria abbiamo sbagliato abbiamo sbagliato vabbè mi sono fatto fregare con vabbè tanto un gol lo pigliamo sempre figuriamoci ma vuoi dire che ci vogliamo spaventare per un gol aspettami non riesco ad entrare di qua grande cerchetti avanza ok ottimo casumo è buona è buona vai porca ma va bene non era molto angolato il tiro non è che ho capito per quale motivo mi era questa palla così brutta e dai no porca Demetri sta giocando veramente male aspetta England edward si muoviti è buona è buona è buona è buona vai grande Dordevic ma l'avevo visto Dordevic che pure prima si era inserito bene è stato bravo se l'è pure chiamata la palla provato a tirare la prima palla perché se no se incrociavamo sbagliava va bene è buona sembra buona grande vai no ma era edwards edwards è un metro e novanta e manco la piglia di testa c'è sempre sti falletti così eccolo qua ma non c'è qui non lo posso far giocare a più a questo cioè cioè se non gioca Collins si vede subito ma buona che mazza è buona è buona aspettami è caduto da solo è caduto da solo ottana porca miseria l'avevo presa l'avevo cerca di pigliarla cerca di pigliarla andiamo a forza è buona vai grande Kasumu mamma che grande giocatore Kasumu Kasumu sta crescendo tantissimo e poi avete notato fa sempre queste cose di sua iniziativa cioè nel senso gioca sempre molto arretrato poi dopo a un certo punto viene cominciato ma l'ha fatto una progressione esagerata ah addirittura era un derby fuori casa vabbè comunque l'importante è come al solo che noi vinciamo sempre e vinciamo sempre fuori casa questa cosa non la capirò mai però l'importante è che abbiamo vinto stiamo facendo ruotare parecchi giocatori e stiamo andando bene magari se riusciamo a questo punto Lorde che sei contento ho fatto per il paese di Ace accettato ok non l'abbiamo già dato Ace no evidentemente ancora non vabbè deleghiamo mi pare che l'avamo già accettato non mi ricordo forse vabbè mi sta ringrazio per prestazione autorevole d'Ordebic bravo e mi sa che qua dobbiamo veder se riusciamo a prendere il portiere perché offerte non ne sono arrivate non riusciamo a vendere praticamente a nessuno vabbè io ci provo accordo per il presto di Ace accettiamo ok l'altro cos'era accordo per il presto di Urso perfetto quindi anche Urso accettiamo ora io sinceramente non so quanto possa valere però ovviamente penso un paio di milioni glieli possiamo pure dare prendiamo un po' Barbutto non siamo riusciti a prenderlo Barbutto pur lo potevamo prendere allora dove cavolo stai portiere 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 eccolo qua che bella bestia però c'è una stabilità non sembra tanto forte però è della carta contattiamo per acquistare il che aveva acquistato il giocatore decente non intende trattenere perfetto stiamo a posto quindi stiamo senza portiere potrebbe essere un segno del destino e magari possiamo prenderci un fantastico Barbutto il ritorno di Barbutto 27 anni questo è forte lo abbiamo già sperimentato io ci provo vediamo se lo riusciamo a prendere allora scambio giocatore no ti potrei dare allora gli potremmo no però a piccola t nozuda enran ba nemmeno d'or devic gli potremmo dare picco però poi dopo giochiamo senza attaccanti in meno no tanto essi l'abbiamo in prestito centrocampi chi ci abbiamo centrocampi centrocampi chi ci abbiamo altamarino gli potremmo dare altamarino gioca bene Lorenz mi incuriosisce kittins potrebbe giocare bene casumo no nemmeno terzini difensori centrali centrocampi questi portieri ci facciamo offerta per il cartelino gli potremmo dare un paio di milioni un paio di milioni e mezzo vediamo se ce lo danno secondo me io potevo offrire di meno mannaccia vabbè fa niente dai andiamo a trattare barbutto mi resta nel cure importante assolutamente allora facciamo quattro anni barbutto due anni no non vuoi stare quattro anni con noi ci schifi facciamo tre anni va bene ok barbutto è contento niente caso recessoria va bene anche per noi niente caso recessoria stipendio ehi 800 barbutto sei andato con la testa per terra e ti sei tutta la sei pure spaccata 50 volte non esiste proprio modifichiamo un po' lo stipendietto barbutto facciamo sette ok e il bonus di viaggio lo facciamo di 55 va bene vabbè c'è un grande ritorno un grandissimo ritorno perché torna praticamente barbutto nelle file chi se lo ricorderà sa bene che barbutto è un 66 abbastanza baggato cioè nel senso che è forte è velocissimo poi vediamo sicuramente essi in prestito o riprestito abbiamo già detto tutto l'unica cosa che però voglio fare è questo se andiamo in hub rosa barbutto lo facciamo diventare a questo punto un fantastico atti perché lui dovrebbe essere un'ala destra ma lo facciamo diventare piano di crescita lo facciamo diventare una t 91 settimane ci metti porca miseria barbutto però mi aumenti questo vedete già per esempio si vedete la differenza 27 anni mi aumenta ancora in finalizzazione e potenza del tiro c'è la velocità di scatto 90 accelerazione 90 grande barbutto grande ritorno vabbè ragazzi noi questa parte la possiamo terminare qui tanto penso che non faremo altro non penso che ci saranno naturalmente altri stravolgimenti rifiutiamo dobbiamo rinnovare anche un po' di contrattini però vabbè non ci dovrebbero essere problemi spero ci vediamo sempre al prossimo video bye